Alle 18 al Duomo di Monreale ci saranno anche i genitori del piccolo Stefano Pompeo, il bampino di Favara, vittima della violenza mafiosa ucciso 20 anni fa. I genitori del ragazzino arriveranno da Favara per aderire alla giornata organizzata dal Parlamento della Legalità Internazionale. Ad accogliere i genitori di Stefano sarà il presidente del Parlamento della Legalità, Nicolò Mannino, il quale ha voluto che si ricordasse in occasione della giornata anche la tragica fine del bampino favarese. Mafia stato assente ai funerali del Bimpo e il titolo del quotidiano La Repubblica all'indomani dell'estremo saluto al bampino alla matrice di Favara, dove fu grande la solidarietà della gente e scarsa quella delle istituzioni. Ricordiamo che il 23 aprile scorso è stato proiettato all'Astor di Agrigento il film documentario Quasi 12, Nessun colpevole, scritto dal giornalista Gero Tedesco, per raccontare la triste vicenda di Stefano Pompeo, la cui morte, dice Tedesco, è finita nell'oblio. Grazie a Nicolò Mannino, quello di Morreale sarà un altro momento per ricordare la piccola vittima ma anche per condannare l'orrendo gesto che portò alla sua morte. Grazie a tutti.